Buonasera a tutti. Certamente saprete che il tema che ci viene proposto questa sera ha per titolo I tempi di Giovanni Battista, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Ecco, proprio per questo io vi proporrei, per quanto riguarda il nostro piccolo momento di preghiera iniziale, proprio il Cantico di Zaccaria che si mette a lodare Dio alla nascita di Giovanni Battista. Allora ci alziamo. Nel nome del Madre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tutti quelli che lo sanno lo possono anche recitare insieme a con me. Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, dei secoli. Ascoltiamo ora un brano del Vangelo secondo Matteo al capitolo 11 che ci presenta la fotografia che Gesù ha fatto di Giovanni Battista. Elogio di Giovanni Battista Giovanni che era in carcere avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete I ciechi riacquistano la vista Gli zoppi camminano I lebrosi sono purificati I sordi odono I martiri risuscitano Ai poveri è annunciato il Vangelo E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo Mentre quelli se ne andavano Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una cadda sbattuta dal vento Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco Quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re Ebbene Che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì Io vi dico anzi più che un profeta Egli è colui del quale sta scritto Ecco Dinanzi a te io mando il mio messaggero Davanti a te Egli preparerà la tua via In verità Io vi dico Fra i nati da donna Non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista Ma il più piccolo Nel regno dei cieli È più grande di lui Dai giorni di Giovanni il Battista Fino ad ora Il regno dei cieli Subisce violenza E i violenti Se ne impadroniscono Tutti i profeti E la legge infatti Hanno profetato Fino Giovanni E se volete comprendere È lui Quell'Elia Che deve venire Chi ha orecchi Ascolti Severo giudizio di Gesù A chi posso paragonare Questa generazione È simile Ai bambini Che stanno seduti in piazza E rivolti Ai compagni Gridano Vi abbiamo suonato il flauto E non avete ballato Abbiamo cantato un lamento E non vi siete battuti il petto È venuto Giovanni Che non mangia e non beve E dicono È indemoniato È venuto il figlio dell'uomo Che mangia e beve E dicono Ecco È un mangione e un beone Un amico di pubblicani E di peccatori Ma la sapienza È stata riconosciuta giusta Per le opere Che essa compie Ecco che Adesso diamo immediatamente La parola Al professore Pier Francesco Francesco Maria Feltri L'abbiamo già sentito La volta scorsa E quindi abbiamo già avuto Occasione Di apprezzare La sua profondità E allo stesso tempo Anche la sua lucidità E chiarezza Per questo lo ringraziamo Lo ascoltiamo Io sto benissimo So che devo parlare lontano Perché questo scoppia Se no Allora Tanto mi chiamo Francesco Maria Questo l'abbiamo già Appurato una volta Seconda cosa Abbiamo un argomento Complicato Molto più complicato Di quanto non pensiamo Molto più complicato Perché Abbiamo Varie fonti Con cui dobbiamo Confrontarci Una prima fonte Lo vedremo È una fonte Estranea Al Nuovo Testamento Per una volta Un argomento Biblico È Toccato anche Da uno Scrittore Non cristiano E poi abbiamo E poi abbiamo Le fonti Cristiane Che però Non sempre Vanno D'accordo E vedremo Se e perché Ci sono Questi Disaccordi Perché in realtà Forse Giovanni il Battista È una figura Che in qualche modo Ha anche un po' Fatto discutere Una figura Divisiva Una figura Intorno alla quale La Chiesa In qualche modo Ha dovuto Risolvere Alcuni Problemi Partiamo Da una Delle Espressioni Che abbiamo Ascoltato Nella lettura Introduttiva Se Lo volete Comprendere È lui Quell'Elia Che deve Venire Attenzione Perché allora Abbiamo Un'affermazione Molto forte Un'affermazione Molto forte Che riguarda Una Delle Credenze Diffuse Una delle Tante Credenze Diffuse Nel Giudaismo Del tempo Di Gesù Sapete Che La situazione Al tempo Di Gesù Era molto Complicata Non si può Parlare Degli Ebrei In generale Del Giudaismo In generale Sarebbe come Battutaccia Parlare Della vita Politica Italiana Ci sono 50 partiti E naturalmente Ci sono Posizioni Molto Molto Diverse E quindi Questo dovete Presente Era Anche Nella vita Religiosa Politica Religiosa Del tempo Di Gesù Per cui Avevate Le posizioni Più Disparate Soprattutto Avevate Molte Posizioni Diverse Per quello Che riguarda Il cosiddetto Messianismo Alcuni Erano Convinti Che la Salvezza Definitiva Era dietro L'angolo Qualcun Altro La rinviava A tempo Indeterminato Qualcun Altro Riteneva Che La salvezza Avebbe avuto Come figura Determinante Un Mediatore Il figlio Di Davide Il cosiddetto Messia Qualcun altro Al Messia Non dava Nessuna Importanza La liberazione Definitiva Sarà condotta Da Dio Personalmente Qualcun altro Infine Addirittura Di Messia Ne individuava Due Uno Figlio Di Davide Che restauverà L'indipendenza Politica Di Israele Ma ce ne vuole Un altro Un sacerdote Figlio Di Aronne Che porterà Finalmente Un culto Corretto Nel Tempio Di Gerusalemme Quindi Vedete C'è un Ventaglio Di posizioni Le più diverse Le più disparate Tra queste Posizioni Una Sosteneva Che La Salvezza Definitiva Qualunque Cosa Questo Volesse Dire Era Aperta Sarebbe Stata Preceduta Dal Ritorno Del Profeta Elia Guardate Che questa È Una Affermazione Che troviamo Nell'ultima Pagina Almeno Nelle nostre Bibbie L'ultima Pagina Dell'Antico Testamento È Un Passo Del libro Di Malachia Recita Proprio Nell'ultima Pagina Al capitolo 3 Versetti 22 24 Ecco Io invierò Il profeta Elia Prima che Giunga Il giorno Grande E terribile Del Signore Perché Converta Il cuore Dei padri Verso i figli Il cuore Dei figli Verso i padri Così che io Venendo Non colpisca Il paese Con lo Stermenio Il nuovo Testamento I Vangeli Interpretano Questa Profezia Adempiuta Nella figura Di Giovanni Il Battista A cominciare Dal modo In cui Ci presentano Vestito Il Battista Nel Battista Si dice Che è Vestito Con Una Pelliccia Che vive Nel deserto E sono Gli stessi Attributi Di abbigliamento Che il libro Dei re Ci presenta A proposito Della figura Di Elia Elia L'abbiamo già detto Anpassan In qualche incontro Che abbiamo fatto Insieme È una figura Molto importante Nelle scritture Ebraiche Elia È una figura Che richiama In modo Particolarmente Energico Gli israeliti All'adorazione Dell'unico Dio Perché già In altre volte Se vi ricordate Abbiamo detto Che la grande Tentazione Di Israele Dell'Israele Biblico Non è tanto Quella Di abbandonare Il Signore Il Dio Di Israele Ma di associare Al Dio Di Israele Altre divinità Perché il Dio Di Israele Chiede qualcosa Di assurdo Di esagerato Di essere L'unico Dio Ma il Dio Di Israele È un Dio Guerriero E viceversa Gli israeliti Si pongono La domanda Come farà Questo Dio Guerriero A essere esperto Anche di agricoltura E di fecondità Del bestiame E di fecondità Dell'uomo E della donna Meglio Mettergli a fianco Baal Asherah Una serie Di divinità Cananee Che insomma Di fecondità Sono esperti Perdonate Un marito E una moglie Baal E Asherah Ne capiranno Ben di più Di fecondità Piuttosto Che un Dio Che si occupa Di guerra Bene Il nostro Dio Si occupa Di una cosa Ma meglio Avere anche Baal Al suo fianco Elia In modo Furibondo Rabbioso Determinato Spesso Addirittura Scontroso Si assume L'onere Di difensore Oggi diremmo Del monoteismo Proprio Per questo Suo Atteggiamento Estremamente Determinato Allora Il libro Dei re Racconta Che ha Un destino Molto strano Molto particolare Per il semplice Fatto Che invece Di morire Viene Assurdo Viene Prelevato Da Dio Portato In cielo Su un carro Di fuoco E' un'esperienza Simile A quella Di un altro Grande Personaggio Dell'Antico Testamento Di cui in verità Si dice molto Meno Ed è la figura Di Enoch Anche intorno a Enoch Allora il giudaismo Del tempo di Gesù Aveva una serie Di dottrine Di credenze Si riteneva Che Enoch Fosse depositario Di una serie Di profezie Di libri Di rivelazioni Particolari Nel duomo Di Modena Casa mia Una delle Epigrafi Più importanti Quelle Relativa Alla fondazione Del duomo E' proprio In qualche modo Sorretta Dalle due figure Complementare Di Enoch E di Elia Segno del fatto Che i cristiani Dell'undicesimo secolo Erano perfettamente Consapevoli Conoscendo la Bibbia Forse meglio Di noi Dell'importanza Di questi Due personaggi Nella storia Della salvezza Ecco allora Che a proposito Di Elia Portato via Dal carro di fuoco Il nostro profeta Malachia Annuncia Che come se n'è andato Per questo Ritornerà Non ha bisogno Di risorgere Come Ognuno di noi E' andato Dio Se l'è preso Con sé Dio In modo Miracoloso Lo rimanderà Sulla terra Per Una missione Particolare Questa missione Del tutto Particolare Avete letto Prima Avete prima Sentito nel testo È di Precedere Il giorno Grande Terribile Del Signore Perché Converta Il cuore Degli Israeliti Il giorno Del Signore È Nell'Antico Testamento Un giorno Di giudizio È un giorno Terribile È un giorno Micidiale È un giorno Di fuoco Di fiamme E quindi C'è bisogno Poiché Dio Non vuole la morte Del peccatore Ma che si converta E viva C'è bisogno In qualche modo Che sia preceduta Da una figura Questa figura Appunto Viene identificata Con Elia Che ha il compito Di avvisare Di chiamare Gli uomini Alla conversione Gli israeliti Alla conversione Perché Quando arriverà Il giorno Terribile Del Signore Questi Sanno pronti Ad accoglierlo Ormai Con cuore puro Riconciliati Con Dio E purificati Dei loro Peccati A questo punto Abbiamo Nel Nuovo Testamento Questa figura Vestita Con gli stessi Vestiari O con il stesso Abbigliamento Di Elia Si presenta Nel deserto E sapete E sapete Che il deserto Di Giuda Arriva Praticamente Fino Al Giordano Nell'area Che va Tra il deserto Di Giuda E il Giordano Vediamo Questa figura Di Giovanni Alla Giudea Al momento Della nascita Di Gesù Di Nazareth Suo figlio Si chiama Erode Pure lui Si chiama Erode Antipa E Il suo potere È stato Ampiamente Ridimensionato I romani Ormai Controllano Gerusalemme E la Giudea Personalmente C'è un governatore Ponzio Pilato E Erode Praticamente Gli è rimasta Solo La Galilea E Una regione Sempre nel nord Dell'attuale Giordania Che cosa Succede Lo impariamo Con Maggiore Precisazione Con Maggiore Precisione Da Uno Storico Ebreo Che si chiama Giuseppe Flavio Questo Giuseppe Flavio Scrive Due opere Particolarmente Importanti Una si chiama La guerra Giudaica L'altra si chiama Antichità Giudaiche Impariamo Da questo Scrittore Quasi tutto Quello Che conosciamo A riguardo All'epoca Di Gesù Di Nazareth Altre Informazioni Le cogliamo Dai dati Archeologici In particolare Dai dati Archeologici Dell'area Del Tempio E permettetemi Una piccolissima Notazione Polemica Io ormai Sono 15 anni Che vado in Israele Almeno Una Due Volte All'anno Guidando Gruppi Di studio Gruppi Di lavoro Attività Di Cultura O di altro Tipo E un pizzico Mi arrabbio Con le agenzie Che organizzano Dei pellegrinaggi Perché Regolarmente Vedo Nei programmi Dei pellegrinaggi Che non viene Mai In Il parco Archeologico Chiamato Davidson Dal finanziatore Di questa Area Che è la zona Antistante Il Tempio Di Gerusalemme E' vero Che non è un luogo Santo Nel senso stretto Del termine E' vero Che qui Ad esempio Una parrocchia Che faccia Un pellegrinaggio Non può Fermarsi A dire Una preghiera Però è L'unico Luogo In cui Sono Sicuro Con la mano Sul fuoco Che Gesù Di Nazareth È stato lì Perché Quella È l'area Del Tempio Di Gerusalemme Allora Attenzione Perché Della Realtà Del Tempo Di Gesù Noi abbiamo Due o tre Fonti Le fonti Archeologiche Quelle relative Al Tempio E più in generale Relative Alla città Santa Tenendo presente Che spesso È molto problematico Scavare In una città Di Gerusalemme Perché è un'area Abitata E quindi Capite Che non è Sempre facile Fare degli scavoli In un'area Abitata Per secoli E tuttora Abitata E soprattutto Allora Giuseppe Flavio Giuseppe Flavio Attenzione Al nome Capite Subito Che è un nome Strano Perché è un nome Per metà Romano Per metà Giudaico Giuseppe È un termine Giudaico Flavio È un attributo Tipicamente Latino Che cosa Succede Che il nostro Flavio Giuseppe Negli anni Nell'anno 66 Quando esplode La grande Rivolta Che poi si Concluderà Nel 70 Con la distruzione Del Tempio E la distruzione Di Gerusalemme È un generale Giudeo Ha un compito Impossibile Fermare L'esercito Di Flavio Vespasiano Che dalla Siria Sta arrivando Verso Nord E va Verso Sud Direzione Gerusalemme Ci prova Ma dopo Alcuni giorni È praticamente Impossibilitato A fermare E deve Arrendersi Deve Arrendersi E però Ha Una specie Di intuizione Lui dice Ero dotato Di spirito Profetico E preannuncia A Vespasiano Che a quell'epoca È solo Un generale Che di lì a poco Sarebbe diventato Imperatore In effetti Di lì a poco Muore Nerone Muore Nerone Vespasiano Diventa Imperatore Questo generale Vespasiano Che ormai È imperatore A questo punto Adotta Giuseppe E lo trasforma Nel suo Storico Di corte Nel suo Storico Ufficiale Ecco che Allora In lingua Greca Giuseppe Scrive Queste due Opere La prima La guerra Giudaica Che in qualche Modo Celebra Il suo Patrono Vespasiano E poi più tardi Tito E In secondo Luogo Richiesto Da ulteriori Informazioni Scrive Sempre in lingua greca Le Antichità Giudaiche Che in qualche modo Un condensato Dell'acconto biblico Un condensato Della storia Ebraica Per tutto Il periodo Biblico Ma A noi Interessa Anche oltre Fino Ai tempi Della rivolta Giudaica Chiudendo Per così dire Facendo Coincidere Le due Opere Per cui Le antichità Giudaiche Vanno dall'Esodo Fino al 66 La guerra Giudaica L'attualità Più stretta La guerra Appena Finita Bene La cosa Interessante Che Flavio Giuseppe In due Passaggi Delle antichità Giudaiche Mette due Brani Che sono uno Più interessante Dell'altro Per lo storico Che si occupi Delle origini Del cristianesimo Il primo testo Che vi vorrei Ricordare È chiamato La testimonianza Flaviana La testimonianza Di Giuseppe Flavio E parla Di Gesù È una Delle pochissime Testimonianze Extra Bibliche Non cristiane Che parlano Di Gesù Di Nazareth Anche se Va precisato Subito Che questa Testimonianza Sicuramente Ha ricevuto Qualche Aggiunta Qualche ricamo Qualche Cambiamento Da un Copista O da un Interpolatore Cristiano Perché nessun Giudeo Avrebbe scritto Che forse Questo è un uomo Divino Che questo È il Messia Queste sono Espressioni Tipicamente Cristiane E Flavio Giuseppe Cristiano Non è Invece Nel caso Di Giovanni Il Battista La testimonianza Va presa Alla lettera Nuda e cruda Al cento per cento Non c'è neanche bisogno Di limature Di pulizie O di rifiniture E la cosa interessante È che Flavio Giuseppe Per prima cosa Ci testimonia Che questo Giovanni È un Battista Cioè Battezza Cosa vuol dire Battezzare Qui Vi chiedo un attimo Scusa Ma dovete stare Attenti Che Molte Delle Nostri Quadri Anche Dei più Belli Vanno presi Un attimo Con le pinze Perché ci presentano Gesù In mezzo al Giordano Con Giovanni Che gli versa Sul capo Un goccio D'acqua Secondo I riti Cristiani Del tempo Del pittore In realtà Battesimo Letteralmente Vuol dire Immersione Tuttora Ho già detto Quest'oggi La mia opinione A me fa un po' schifo Il Giordano È un fiume inquinato È un fiume orrendo Ci sono delle pantegane Lunghe così A me Immergermi nel Giordano Mi farebbe schifo Vi chiedo scusa Ma Ci sono Gruppi Di Ucraini Di russi O anche di americani Che Si battezzano Nel senso di Immergersi Testa compresa Dentro Il Giordano Oppure Si lasciano andare All'indietro In qualche modo Quindi è un bagno Vero e proprio Al cento per cento Quindi quando sentite dire Che Gesù Si viene battezzato O che Giovanni il Battista Battezza Dovete pensare a un rito Ma di Immersione Completa Allora Giovanni Battezza Giovanni Dirige Guida Questo rito Di Immersione Nel fiume Giordano Che significato Ha questo Rito Flavio Giuseppe È di una chiarezza Cristallina In questo caso E in questo caso Ci Conferma Ci Convalida Quello Esattamente Che dicono I Vangeli Cioè Questo rito È Il rito Chiamiamolo così Esteriore Che Conferma Sigilla Manifesta Con un gesto Esplicito Una conversione Interiore Cioè Una persona Si riconosce Peccatrice Riconosce Di aver commesso Vari Uno o più Peccati Chiede Sinceramente Perdono A Dio E in qualche modo Manifesta La sua Conversione Con questo Gesto Con questo Rito Quindi È Davvero Il rito Che in qualche Modo Ci viene Presentato Nel libro Di Malachia Ecco Arriva Il profeta Elia E il suo Compito È Convertire Il cuore Vedete Che Quando Il nuovo Testamento Ci presenta Il nostro Giovanni Il battezzatore Giovanni Colui Che immerge Giovanni Colui Che amministra Questo rito Dell'immersione Ecco Che Giovanni Amministra Un rito Di conversione Che manifesta Una Sincera Conversione Del cuore E Flavio Giuseppe È molto più Esplicito Addirittura Del nuovo Testamento Dice Guardate Che Questo rito Non sostituisce La conversione La conversione Deve Precedere Questo rito Se Questo rito Viene compiuto Senza Sincera Conversione Giovanni Diceva Che non valeva Niente Dopodiché Il nostro Flavio Giuseppe Ci dice Alcune informazioni Interessanti Che Intorno A Giovanni Si riunisce Un gruppo Di fedeli Erode Antipa Ha paura Erode Antipa Comincia a temere Una rivolta Lo fa Arrestare E poi Ne provoca La uccisione Da questo punto Di vista Flavio Giuseppe Non menziona Assolutamente L'episodio Di Salome Quell'episodio Che viene narrato Dai Vangeli Secondo cui Giovanni In prigione Sarebbe poi Stato ucciso Per una specie Di capriccio Di una Fanciulla E di sua Madre E' un modo Per presentare Che questo Erode E' davvero Malvagio E' una Marionetta Si fa influenzare Da una Ragazzina Forse addirittura Lussurioso Perché la Desidera Quindi E' un modo Per presentare In tinte Ancora più Fosche Questo Anno Di Gesù di Nazareth Ma al di là Di questi Dettagli Ci interessano I dati I dati Storici Che emergono Sono per una volta Abbastanza convergenti E chiari Abbiamo un profeta Abbiamo un profeta Che opera Nella regione Del Giordano E del deserto Vicino Al Giordano Annuncia La necessità Della conversione Annuncia Che Dio Sta per intervenire Per cui può essere letto Da chi lo guarda Dall'esterno Come una figura Simile Ad Elia Quell'Elia Che era stato Annunciato Dalla scrittura Il suo Successo Provoca poi Timore Nelle autorità Che lo Che decidono Di eliminarlo Ecco che Abbiamo A questo punto Un paio Di problemi I problemi Consistono Nel fatto Che Non sappiamo L'anno Nuovo testamento È molto Antipatico Nuovo testamento È molto antipatico Perché non ci dà mai Un anno Che sia chiaro Non ci dice Quando è morto Gesù Non ci dice Quando è nato Veramente Da questo punto di vista Gli evangelisti Sono veramente Persone Che ci fanno Un po' Arrabbiare Non riusciamo a dire L'anno Esatto Diciamo Per comodità Intorno all'anno 28 Ma è una Ipotesi È una Concettura Diciamo Ipotizziamo Che Gesù Sia morto Intorno all'anno 30 In questo caso Avrebbe operato Per circa Due Tre anni Ma sono Tutte Ipotesi Purtroppo Non riusciamo a dire Niente Con esattezza Quello Che è certo L'unico Dato Certo In nostro Possesso È che Gesù Di Nazareth Che fino a quel momento È rimasto Un oscuro Galileo Figlio Di un Falegname Va Anche lui Al Giordano E Partecipa A questo Rito Collettivo Del Battesimo A partire Da quel Momento Ha Una Esperienza Forte Ha Una Esperienza Di vocazione Verebbe da chiamarla E comincia La sua Vita Pubblica La sua Attività Pubblica Possiamo Paragonare Per certi Versi L'esperienza Del Battesimo Di Gesù Alla vocazione Profetica Di Isaia Di Geremia Di Amos Di tanti Altri profeti Che a un certo Punto Vivono Quest'esperienza Di contatto Formidabile Con Dio E che Ricevono Da Dio Stesso Una Missione Un compito Non tengono Per sé Questa Esperienza Di Dialogo Con Dio Sono Spinti A trasformarsi In profeti Cioè A annunciare Alla Umanità O a Israele Ciò che Dio Comunica Loro Il Battesimo Di Gesù È Un dato Assolutamente Certo Arrivo a dire Che insieme Alla morte In croce È l'unica Certezza Che lo storico Ha Della vita Di Gesù Perché Sono due dati Sicuri Al 101% Perché sono due dati Imbarazzanti Il cristianesimo Delle origini Non ha nessun motivo Di immaginarsi Una morte Scandalosa Infamante Disgustosa Come La croce Così come Se ci pensate Un momento Il battesimo Da parte Di Giovanni Il Battista È Un dato Imbarazzante La prima comunità Cristiana È In Imbarazzo Ma Non può Cancellare Questo Dato Perché È talmente Radicato Nella tradizione Che È Quasi Impossibile Dico Quasi Cancellarlo Dico Quasi Perché È talmente Imbarazzante Che il Vangelo Di Giovanni Lo farà Lo cancella Non c'è Nel quarto Vangelo L'imbarazzo È tale Che Giovanni Alla fine Il Vangelista Giovanni Dirà Sì sì Giovanni Battista È importantissimo Ma Il Battesimo Non ce lo mette Nel Vangelo Di Matteo C'è L'episodio Del Battesimo Ma è in qualche Modo Addomesticato È in qualche Modo Addomesticato Perché Gesù Va Dalla Dal Profeta Evangelizzato Dal profeta Dal battista E il Battista Lo riconosce E dice Ma come Io dovrei Battezzarti Ma non se ne parla Neanche Se mai facciamo Il contrario E Gesù Risponde Devi farlo Bisogna Adempiere Ogni Giustizia Vedete Come un modo Per dire Da parte Dell'Evangelista Signori Io non so Spiegarvelo Dio ha voluto Così E capite Il doppio Imbarazzo Primo Imbarazzo Questo è Un battesimo Un rito Che Viene Compiuto Da chi Riconosce Di essere Un peccatore Ma come Il Signore Che dichiara Di essere Un peccatore Certo A posteriori Per noi È tutto chiaro Gesù Vuole essere Come noi Vuole dimostrare Che è uguale A tutti noi Eccetto Al peccato Diciamo Ma si In qualche Modo Come dire Umilia Si Mette Al nostro Stesso Livello Non ho tutti I tentativi Che anche Noi Proviamo A fare Per uscire Da un Imbarazzo Da un Cull de sac Da una situazione Che è Per certi versi Strana E proprio Perché strana Capite Che è un dato Storico Inequivocabile Altro dato Interessante Al tempo Di Gesù È Giovanni La star Non è Gesù È Giovanni Che a lungo È la figura Più prestigiosa E invece I cristiani Hanno ormai Rovesciato I ruoli Vedere Un Gesù Che Per donatemi Termine Tra virgolette Si inginocchia Davanti A Giovanni Sembra Quasi Invertire I ruoli E infatti Il Vangelo Di Matteo Dice proprio Ma guarda Che dovremmo Essere L'uno Scambiarci Di posto Essere L'uno Al posto Dell'altro Nonostante questo Allora abbiamo Questo dato Importante Del battesimo Di Gesù Che è talmente Strano Come dato Che è Indubbiamente Un dato Certo È un dato Certo Così come Però dovete Stare attenti Perché I rapporti E Il Le relazioni Tra Giovanni E Gesù Forse Non sono Così Idilliache Come a volte Il Nuovo Testamento Ci vuole Presentare E mi spiego Subito Di nuovo Il Vangelo Di Giovanni È l'ultimo È il più tardivo È quello Che cerca Di presentare Tutte le cose Che vanno in fila Uno dietro L'altra E allora È Il Vangelo Che ha ispirato Tante Immagini Di Giovanni Come ci sono Familiari Dai quadri È un Giovanni Che indica Gesù E dice Questo è L'agnello Di Dio Seguite Lui E in qualche Modo Allora Permette Ai suoi Discepoli Di andarsene E di seguire Colui Che è superiore A Giovanni Stesso Ed ecco Che allora Nei nostri quadri Tante volte Avete Un Giovanni Che ha Un lungo bastone Con una croce in mano E ai piedi Avete Un agnello L'agnello Di Dio E Giovanni Che lo indica Con Il Con la mano Da questo punto di vista Tanti quadri E persino L'immagine Di Giovanni Che ci viene Offerta Nel quarto Vangelo Sono L'opposto Del titolo Che abbiamo Dato A questo Nostro Incontro Il titolo Che abbiamo Dato A questo Nostro Incontro È Giovanni Il Battista L'ultimo Dei profeti Che in qualche Modo È Tra le due Alleanze Se ci pensate Invece Nel quarto Vangelo Giovanni Non è l'ultimo Dei profeti È il primo Dei credenti Cioè È il primo Che in qualche Modo Aiuta Gli altri A credere Nel Signore Giovanni Viene Completamente Recepito Assorbito In qualche Modo Trasformato In un Vero Cristiano Ma che le Le cose Fossero Un pizzico Più Complicate Ce lo dice Forse Proprio Il brano Che è stato letto Un quarto d'ora fa Che ha letto Gentilmente La nostra Amica Perché Abbiamo Una Situazione Di un Giovanni Che è in carcere Ma che è Tutt'altro Che Convinto Non gli Quadrano Tante cose In particolare Attenzione Possiamo Partire Dalla Fine Del brano E poi Arrivare All'inizio La fine Del brano Che c'è stata Letta È Una Specie Di Parabola È Una Specie Di Parabola In cui Gesù Ci dice Che La Generazione Israeliti Del suo tempo Sono come Dei bambini Capricciosi Questa Generazione La paragono Dei bambini Dei bambini Che sono Seduti In piazza E poi Si rinfacciano Che Siete Delle Pizze Abbiamo Voluto Giocare Con voi Ma voi Non avete Voluto Accettare Nessuno Dei giochi Che vi Abbiamo Proposto Prima Abbiamo Detto Giochiamo Al funerale Dai Facciamo Suoniamo Il flauto Facciamo Finta Che ci sia Il funerale No Che pizza Che brutto Giocare Al funerale Non ci piace È triste Bene Allora Cosa facciamo Giochiamo Il matrimonio Che è più allegro No Il matrimonio Non ci piace Beh insomma Non vi va Proprio Bene Niente Siete Dei bimbi Viziati Capricciosi Siete Dei bimbi Viziati Capricciosi Perché A voi E Gesù Si rivolge Ai suoi interlocutori Giudei Non è andato bene Il battista Che nel deserto Aveva una vita Spartana Aveva una vita Rigida E aveva Un atteggiamento Estremamente Ascetico Non vi vado Bene io Parentesi Parentesi Ma forse Non andava bene Neanche al Battista E i suoi discepoli Quello che fa Gesù Perché Gesù Cosa fa Mangia Beve E voi Dite Ecco Un mangione Un beone Un amico Di pubblicani E dei Peccatori Perché Perché mi spingo Fino a dire Che anche a Giovanni Non piaceva Probabilmente Questo stile Perché Stando a quello Che ci dice Il Nuovo Testamento Giovanni Giovanni Da buon Elia Annunciava Fulmini Saette Giudizio Il giorno Terribile Del Signore E questo Invece Che si presenta Come colui Che è L'inviato Di Dio Annuncia Solo Misericordia Mangia Beve Cosa vuol dire Mangia E beve Vuol dire Che va A mensa Condivide Compie Dei gesti Diremmo noi Di comunione Anche Con gente Tutt'altro Che Per bene Quella gente Su cui Dovrebbe Scendere Il giudizio Divino E incenerirli E invece Costui Offre a loro Il perdono Divino È amico Dei pubblicani È amico Dei peccatori Un mangione Un beone Capite Che anche Una frase Di questo tipo Difficilmente La comunità cristiana La può avere Inventata Non dico Che al limite Della bestemmia Ma capite Che è una parola Molto dura È una parola Che in qualche modo La comunità cristiana Ha ereditato Dalla tradizione E in qualche modo Ha presentato Come il gesto Il simbolo stesso Del comportamento Del suo signore Tra l'altro Forse Prendetelo Con le pinze Quello che sto per dirvi È una frase Molto dura Molto pesante Perché tenete presente Che questo termine Che ci viene detto Qui Amico Dei pubblicani E dei peccatori Viene ripreso Nel brano Immediatamente Mente seguente Applicato Ad una peccatrice E questa peccatrice È come minimo Un'adultera Forse una prostituta Capite che questa Espressione Che viene Mossa a Gesù È Al limite Dell'insulto Avete un bel maestro Uno che mangia Beve E va a donne Cioè È Davvero Il tentativo Di insultare Screditare La reputazione Del signore E il signore Dice Non mi interessa Non mi interessa Anzi Sono Fiero Di quello Che faccio Perché ogni volta Che vado A mensa Con un pubblicano O Con una prostituta O con un adultere Riesco A Ottenere Da queste persone La loro conversione Annunciando loro Non Fuoco Fiamme Ma la misericordia Di Dio Io Svolto Il mio ruolo Di mediatore Vero Tra il cielo E la terra Tra Dio E l'uomo Annunciando Il vero Volto di Dio Che è il volto Di un padre Misericordioso A questo punto Siamo in grado Di capire Anche Il Passo Iniziale Del brano Che ci è stato letto Dieci minuti fa Per il semplice fatto Che Quando Il nostro Giovanni In prigione Manda Alcuni Emissari Gesù Gesù Risponde In termini Estremamente Vaghi Estremamente Strani Perché non dice Si sono io Punto Ma dice Guardatevi Intorno Guardatevi in giro E guardate Cosa sta succedendo Qui colgo L'occasione Per ricordare Precisare Non mi stanco Mai di farlo Che i cosiddetti Miracoli Di Gesù Non sono Gesti Puramente Come dire Pirotecnici Non sono Gesti Finalizzati A mostrare Una potenza Pura E semplice Vi faccio Un esempio Sciocco Non so se vi ricordate Quando eravamo bambini Nei nostri Sussidiari Circolava Un Racconto Di un Vangelo Apocrifo Molto carino Cioè Il racconto Di Gesù Bambino Che faceva Degli uccellini Di Creta Poi batteva le mani E questi Prendevano vita Bellissimo racconto Divertente Gradevole Ce ne sono degli altri Un po' più strani Dei bambini Che gli facevano Dispetti E lui li incenerisce C'erano anche questi Però Questi sono Un po' meno Gradevoli Ma al di là Di tutto questo L'errore Tra virgolette Di questi apocrifi Consiste Di non aver capito Lo spirito vero Dei Cosiddetti Miracoli Di Gesù Perché sono Tutti gesti Di liberazione Non sono Fine a se stessi Non sono Manifestazioni Di potenza Non sono Degli abracadabra Non sono U come sono Bravo U come sono Forte Sono gesti Che Con l'azione Danno Corpo Al sugo Al succo Al nocciolo Del messaggio Di Gesù E infatti vedete Che l'elenco Dei Miracoli Di cui Il nostro Gesù Si Che il nostro Gesù Mette davanti Agli inviati Del battista E I ciechi Riacquistano La vista Gli zoppi Camminano I lebrosi Sono guariti I sordi Sentono I morti Ressuscitano Ai poveri E' annunciata La buona Novella Se ci pensate Un momento Sono Le beatitudini In azione E' l'elenco Delle beatitudini Che Trova Realizzazione Concreta A questo punto Mi permetterei Di Farvi notare Un'importante Precisazione Terminologica E' concettuale Questa Terminologia Che vorrei Far riportare La vostra Attenzione Riguarda Il nocciolo Del messaggio Di Gesù Che forse Giovanni Non ha capito Che forse Il Giovanni Storico Non ha capito Stando almeno Al Vangelo Di Matteo Di Luca Il Vangelo Di Giovanni Il quarto Vangelo Ci presenta Un Giovanni Credente Ma invece Gli altri Ci presentano Un Giovanni Più perplesso Che forse Non ha davvero Colto Il nucleo Centrale Del messaggio E lo stile Del messaggio Di Gesù Perché il centro Del messaggio Di Gesù In tutti e tre I Vangeli Sinottici Matteo Marco E Luca E il termine Regno Di Dio Il regno Di Dio È in mezzo A voi Se io caccio I demoni Con la forza Con il dito Di Dio È giunto A voi Il regno Di Dio Sono espressioni Molto forti Vi ricordate Come si conclude Il passo Che abbiamo letto Cinque minuti Fa Beato colui Che non trova In me Un motivo Di scandalo Gesù è piccolo Gesù è insignificante Gesù Sembra Un megalomane Una persona Che dichiara Di essere Una persona Importantissima Colui che apre Il regno Di Dio Ma qualcuno Potrebbe scuotere Le spalle Dicendo Sei un ciarlatano Sei un mitomane Beato Chi non trova Nella mia piccolezza Un motivo Di inciampo Per la sua fede Perché con me Grazie a me Inizia Il regno Di Dio E qui dovete stare attenti Alla precisazione Che sto per fare Il termine regno A volte Noi lo interpretiamo In un senso Spaziale Ma non è Il senso Che ha il termine Nel nuovo testamento Almeno nei Vangeli Noi a volte Interpretiamo Il termine Regno di Dio Come se fosse Un sinomino Del paradiso Non è questo Il concetto Che ci interessa Il termine Regno di Dio Noi a volte Lo interpretiamo Come se Parlassimo Del regno Della regina Elisabetta Dicendo L'Inghilterra Il Galles Il nord Irlanda La Scozia Cioè Un ambito Spaziale In realtà Il nuovo testamento E l'antico testamento La tradizione ebraica Nella Bibbia Nel giudaismo di Gesù Persino nei Vangeli Indica Il termine Regno Come un Evento Come un Fatto Il regno Della regina Elisabetta È iniziato Nel 1952 Il regno Di Carlo Suo figlio Non è ancora Cominciato Il regno Del figlio Di Carlo Ha maggior ragione Vedete che Si tratta Di concetti Completamente Diversi Gesù Che cosa Dice Il regno La signoria L'atto Di Regnare Regnare Da parte Di Dio È cominciato Guardate che un messaggio Di una potenza Formidabile Di una potenza Formidabile Perché Presuppone Che l'essere umano Sia un povero Sia un povero Schiavo Noi siamo Schiavi Di che cosa Leggiamo Quello che abbiamo Letto prima I morti I zoppi I sordi La malattia La fame Le lacrime Il dolore Il pianto Questi sono I nostri padroni E noi Siamo Schiavi Oppressi Schiacciati Da tutto questo Siamo schiavi Oppressi Schiacciati Ma se Dio Si fa Signore Della storia E diventa L'unico Re Della storia Ecco Che ci libera Come il Dio Dell'Esodo Libera Israele Dall'Egitto Dalla schiavitù Il Dio Di Gesù Ci libera Da tutti Questi Disastri Capite che Le Beatitudini Devono Un attimo Essere Ricalibrate Reinterpretate Rilette Perché a volte Ce le hanno presentate Credo Almeno a me Nella mio Catechismo In termini Leggermente Distorti Quasi Che la povertà Fosse Un bene Quasi Che il soffrire Fosse un bene Non è questo Tu devi essere Beato Perché Dio Sta Liberandoti Rallegrati Perché la tua Povertà Sta per finire Rallegrati Perché la tua Pianto Il tuo dolore La tua fame Stanno Per concludersi Guardati Intorno La malattia La fame La morte Ed è l'altro testo Che abbiamo visto Grazie alla comunione Di mensa Il peccato Il senso di colpa L'emarginazione L'esclusione Tutti questi Nemici Dell'uomo Trovano Nella regno Di Dio La loro Fine La loro Conclusione Sono spazzati Via Dal Signore Che opera Mediante Gesù Il quale Gesù Naturalmente Può essere Interpretato O come un mitomane Che ha sogni Di gloria E di grandezza O come colui Di cui Dio Si serve Per portarci Questo Vento nuovo Di salvezza Capite a questo punto Che Giovanni il Battista Forse Qui mi muovo Su un terreno Meno solido Forse Non è riuscito A capire Anche perché Giovanni il Battista Che cosa si aspettava Un terremoto Qualcosa di gigantesco Qualcosa di esplosivo Cioè Il giudizio finale Davvero Il giorno terribile Del Signore Capite che Proprio per questo Gesù in alcune circostanze Deve in qualche modo Difendersi Alcune delle Parabole più celebri Sono parabole Di autodifesa La parabola Del seminatore Sembra un fallito Il seminatore La parabola Del seme di senape Ma via là Questo semino La parabola Del granellino Di lievito Una pallina Insignificante Che dovrebbe far lievitare Tutta la pasta Bene Questo è Il concetto Centrale Della fede cristiana Per quanto Ci sembri Assurdo Inutile Strano Perché intorno a noi C'è ancora Il male Il pianto La disperazione La nostra fede La nostra fede Che cosa chiede Chiede di fidarsi Del fatto Che La pallina di lievito È già stata Messa Nella pasta Che il seme È stato gettato Che il seme Di ricino È stato Esso pure Gettato E che Quindi Ci resta Con fede Da aspettare Il grande Compimento finale Compimento finale Che non sarà All'insegna Del fuoco Delle fiamme Del giorno Terribile Come l'ha annunciato Giovanni Il Battista Ma all'insegna Della Misericordia Di Dio E della liberazione Di Dio Nei confronti Di tutti gli uomini Infine Vi ricordo Un dettaglio Importante In ultima analisi Perché La storia Di Giovanni Il Battista Come ce l'ha raccontata Flavio e Giuseppe Ci può di nuovo Aiutare Ci può di nuovo Aiutare A capire Come È andata A finire Con Gesù Se ci pensate Erode Pensa Che questo Gruppo Di persone Che si riunisce Intorno al Battista Prima o poi Possa essere Pericoloso Possa essere Un gruppo Di ribelli Di sediziosi Sommo sacerdote Haifa Probabilmente L'ha pensata Allo stesso modo E l'ha consegnato A Pilato Di qui Lo scandalo Assoluto Della croce Ma capite Il significato Della resurrezione Per i primi cristiani Quel Gesto Che compie Dio Andandosi A prendere Gesù Dal mondo Dei morti È un sigillo È una convalida È la dichiarazione Che quell'immagine Misericordiosa Liberatoria Di Dio Che ci Emerge Dall'insieme Dei Vangeli È un'immagine Valida Che quell'immagine Positiva Di Dio Che abbiamo È l'immagine Il vero Volto Di Dio È quel concetto Che poi Alla fin fine Anche il Vangelo Di Giovanni Ha Confermato Ladove Mille volte Scrive Chi vede Me Vede Il Padre Chi vede Gesù In azione Vede L'azione Di Dio Nella storia Direi che ci possiamo Fermare qua E lasciare la parola Alle vostre domande O le vostre riflessioni Per adesso Grazie Ecco A questo punto La parola è a noi Vuoi cominciare Tu luci Ti ha O ci ha Suscitato Certamente Così Qualche Non dico necessariamente Obiezioni Ma domande Di chiarificazione Di Avete badato Che oratorio È diventato Un oratorio Qui davanti Perché ci sono i bambini Che si divertono Andare lì A fare così Col dito E ovviamente Quello più semplice Da staccare È la i Va bene Va bene Era solo per Interrompere La tensione Se arrivo Se arrivo a dire qualcosa Lei ha detto Che il regno di Dio È un vento Che spazza via Tutto E perché noi Poveri mortali Ci spaventiamo Delle malattie Delle incomprensioni Ci blocca il nostro cammino E sentendoli Il regno di Dio Sentendolo così Mi ha consolato Sì È verissimo Il messaggio del regno di Dio È un grande messaggio Di consolazione Di speranza Infatti Una delle beatitudini È Beati Coloro Che piangono Perché saranno Consolati Cioè Il compito Del regno di Dio È darci speranza E francamente Non so voi Ma io credo Che in questo Momento storico Di speranza Ne abbiamo Un straordinario Bisogno Ci guardiamo Intorno Da tutti i punti di vista Vediamo Violenza Odio E tra l'altro Capiamo anche Che a volte Il contesto In cui Queste Espressioni Sono nate Nell'ambito Giudaico A volte Poi anche I cristiani Il cristianesimo Del nuovo testamento Ha ripreso Questo genere Letterario È il genere Letterario Che viene Chiamato La Apocalisse Mi spiego Subito Sul termine Perché a volte Il termine È Equivoco Noi talvolta Usiamo Il termine Apocalisse Per indicare Un Disastro L'Apocalisse Che sta Adesso Devastando L'Australia L'Apocalisse Nucleare È un termine Che ha Un suo Significato Correttissimo Ma nella Greco E quindi Anche Nella Significato Che ha Nella Bibbia Apocalisse Vuol dire La Rivelazione Infatti Sarebbe Più corretto E molte Bibbie Luterane Hanno Questo nome Per l'ultimo Libro Della Bibbia Noi lo chiamiamo Il libro Dell'Apocalisse Giustamente Queste Bibbie Protestanti Lo intitolano Il libro Della Rivelazione Attenzione Allora Però Qual è La logica I libri Apocalittici E ce ne sono Tantissimi Anche Di ebraici Per certi versi Il libro Di Daniele È un libro Apocalittico Ci presentano Il male Il male Nella sua Forma Più Insopportabile Il male Nella sua Forma Più Devastante Sembra Un fiume In piena Che sta Per Arrivare Fino a noi E sommergerci Attenzione Un profeta Riceve Però Una Rivelazione E il sugo Il nocciolo Di questa Rivelazione È Attenzione Il male Non Trionferà Quindi Ecco Capite Perché il termine Apocalisse Ha cambiato Un po' Di significato Ma Nei libri Apocalittici C'è la descrizione Di una serie Di Disastri Perdonate il gioco Di parole Di Apocalissi Ma Per segnalare Che Questo male Non Trionferà Perché Dio A un certo punto Interverrà Consolare A salvare L'uomo E l'umanità Il regno Il regno di Dio Fa parte Di questo Diciamo Mentalità Ed è Però A differenza Di un'altra Modalità Che forse ci sono Più familiare Di vivere L'esperienza Religiosa Una dimensione Più collettiva Cioè Mentre L'esperienza Religiosa Che siamo stati Abituati A vivere Da bambini Fin da bambini Siamo tutti Giovanissimi In questa sala Mentre L'esperienza Che ci è stata Tramandata È più spesso Un'esperienza Personale E noi In fondo Abbiamo tutti In testa L'inferno Di Dante O il paradiso Di Dante La sorte Della singola Anima Il nuovo testamento Il messaggio Evangelico È spesso Più collettivo Si occupa Come un po' Ancora Nell'antico testamento Come nell'antico testamento Della salvezza Collettiva È tutto Israele Che viene salvato Dalla schiavitù Dell'Egitto E quindi Ci sono aspetti Individuali Per carità La resurrezione Per forza di cose È individuale È ovvio Ma Nello stesso tempo Questa dimensione Di salvezza Collettiva Non dobbiamo Dimenticare Che è presente Anche nel Nuovo testamento Ed un messaggio In qualche modo Di consolazione Collettiva E comunitaria Allora sono obbligato A farne una Sotto certi aspetti Vorrei proprio Riprendere Questa domanda Sul tema Del regno Di Dio Del regno Dei cieli Per il fatto Che giustamente Ha sottolineato Una certa tensione Tra il modo Di concepire La venuta Di Gesù Da parte Di Giovanni Battista Invece L'autopresentazione Che Gesù fa Della sua presenza E D'altra parte Lei ha sottolineato Che mentre Giovanni Battista Concepisce Questa venuta Come un grande Terremoto Che distrugge Tutti quelli Che non sono Convertiti Eccetera Eccetera Invece da parte Di Gesù C'è Questo annuncio Di liberazione Ora A questo punto Però mi chiedo Per quale motivo L'Evangelista Matteo Ecco che All'inizio Dell'annuncio Di Giovanni Battista E all'inizio Dell'annuncio Di Gesù Utilizza Lo stesso messaggio Perché anche Per Giovanni Battista All'inizio Si dice Che il suo annuncio Era Il regno Convertitevi Perché il regno Dei cieli È vicino E Gesù dice Il regno Di Dio È vicino Convertitevi È cambiato Solo Ma la stessa Uguale Perché Matteo Diciamo così Che Non nasconde La tensione Però mette In bocca A tutti e due Lo stesso annuncio Benissimo Questo Spero che la domanda Sia chiara Perché è molto articolata E un pizzico complicata Spero che sia chiara Tutti Se mai La precisiamo Lungo la via Intanto Il nostro Il vostro Don Ha messo in chiavo Una cosa Molto interessante In Matteo L'espressione Che Matteo Da buon ebreo Usa È regno Dei cieli Attenzione Perché non è ancora una volta Un'indicazione Spaziale È uno dei tanti Stratagemmi Che un ebreo Pio Usa Per non menzionare Per non menzionare Il regno di Dio Scusate Per non menzionare Il nome di Dio Per cui I cieli È sinonimo Di Dio Quindi L'espressione Regno di Dio Regno dei cieli Sono assolutamente identiche Sono assolutamente Uguali Non c'è nessuna differenza Poi È verissimo Quello che ha detto Il vostro parroco In Matteo Abbiamo Una piccola Tensione Vero? Rileggo I testi Che citava Il vostro Parroco In quei giorni Venne Giovanni Il Battista Predicava Nel deserto Della Giudea Dicendo Convertitevi Perché il regno Dei cieli È vicino Questa stessa Espressione Marco E poi Matteo La presentano In bocca Identica A Gesù Quando comincia La sua predicazione Pubblica Nello stesso tempo Il nostro Matteo Subito dopo Ci dice Che Giovanni Pronuncia Una serie Di espressioni Molto Dure Durissime Non crediate Di poter sfuggire All'ira Imminente Non pensate Di poter dire Siamo israeliti Abbiamo Abano Una per padre Non interessa Niente Perché Dio Può far Sorgere Figli di Abramo Anche da Queste Pietre Non crediate Che la Elezione L'appartenenza Al popolo Di Israele Possa Servirvi Ogni albero Che non Dà buon frutto Viene tagliato E gettato Nel fuoco Allora Attenzione Spero di essere Il più possibile Chiaro L'ultime parole Che ho letto Sono Tradizionali Cioè Matteo Le ha trovate Nella Tradizione Orale Che lo ha Preceduto E le ha Riportate Pari pari Nel suo Vangelo L'espressione Precedente Il regno Dei cieli E vicino In gergo Tecnico Si dice Che è un'espressione Redazionale Cioè L'aggiunge Matteo stesso In quelle parole Noi troviamo La concezione Che Matteo Ha Del ruolo Del battista Tant'è vero Che quello stesso Battista Se vi ricordate Poco più avanti Quando arriva Gesù Il battista Riconosce Che Gesù È il figlio Di Dio E non vorrebbe Battezzarlo Quindi Mettendo in bocca Battista Le stesse parole Di Gesù In qualche modo Lo ingloba Già nel Nuovo Testamento Nella nuova era Nel nuovo Nella nuova E praticamente Davvero Il confine Con Gesù È quasi Nullo Perché Convertitevi Il regno Dei cieli È Arrivato È vicino Potrebbe dirlo Ognuno Credente Ognuno Che si presenta Come discepolo Di Gesù Quindi Che cosa succede Che Matteo Ha Da un lato La tradizione Che ci riporta Quello che Giovanni Aveva Effettivamente Detto Non si trova Su agio Al cento per cento Perché il battesimo Gli fa problema Allora interviene Presentando Un Giovanni Che è già In parte La stessa operazione La farà anche Il quarto Vangelo È già Un credente Il Giovanni Battista Dice le stesse cose Di Gesù E Quando Gesù Va a farsi battezzare Dice Ma no Non se ne parla Neanche Sono io Semmai Che devo essere Battezzato Da te Allora vedete Che sono i due piani Uno è la tradizione L'altro L'intervento teologico Dell'Evangelista Sulla tradizione Questo è In qualche modo La spiegazione Più semplice Che si può trovare Quando Quando allora Giovanni Indica ai suoi discepoli Di seguire Gesù Sì Quindi lì già Era convinto Di quel che stava facendo Ma poi gli sono venuti I dubbi Quando poi è stato Incarcerato Io direi che Quando troviamo Questo Giovanni Che è cristiano Che crede All'agnello di Dio Eccetera Lì a parlare È la comunità cristiana Quindi anche in quel caso Abbiamo Un dato Posteriore Che la comunità cristiana Attribuisce A Giovanni Diversamente Non si riesce a capire Quella che propone lei Una spiegazione Ma gli avrebbero Dei dubbi dopo Ci credo poco Preferisco pensare A un Giovanni Che In vita Abbia e mantenga Una serie di dubbi O di perplessità Che poi La comunità cristiana Nella stratificazione Successiva Nella riflessione Successiva Presente un Giovanni Sempre più Come dire Addomesticato Un Giovanni In qualche modo Riportato Al ruolo Di vero Credente E quindi Al limite Nel quarto Vangelo Ci presenta Un Giovanni Che con certezza Assoluta Dice Ecco L'agnello Di Dio Seguite Lui E non seguite Più me È un inchinarsi Davanti alla superiorità Di Gesù Ma forse per capire meglio Bisognerebbe anche Considerare che Noi siamo abituati Ad attribuire Dei nomi propri Il Vangelo di Matteo Il Vangelo di Marco Di Luca Di Giovanni E immaginiamo Che Giovanni Si sia messo Al tavolo E con la penna Abbia scritto Lui Così Abbia fatto Matteo E Luca È proprio così Oppure È attribuito Quel testo È attribuito Secondo Una tradizione A Giovanni A Matteo A Luca È una stratificazione Il racconto Che si determina E quindi potremmo pensare Ad un prima E dopo La redazione E potremmo Alla fine Dire che I quattro Vangeli Non sono altro Che la tradizione Che racconta In tempi diversi Quelle vicende E poi Attribuisce Il racconto A Dando un nome No? Al racconto Che viene fatto Non so se mi sono Spiegato Adeguatamente Proviamo È anche una lettura Che poi In qualche misura Emerge Mi par di capire Da una serie Di Usi Di Immagini Che sono In qualche misura Presenti In Matteo Secondo Un certo tipo Di Impostazione Che viene Superata Nel tempo E quindi Che troviamo Come racconto Formulata In maniera diversa Successivamente Non so Per esempio Anche quest'oggi Il La figura Dello Spezzare Le ossa No? Al Cristo Che non Ai due Ladroni Che vengono No? In qualche misura Accelerata La morte Attraverso Questa operazione Noi la pensiamo Come un'operazione Che In qualche misura Ha quegli Effetti Che Possiamo Recuperare Nel senso Di dire Di accelerare La morte Ma però Forse c'è Una serie Di altri Significati Che noi Non riusciamo A cogliere Ma che potremmo Cogliere Se Andassimo A recuperare Anche una lettura Pluristratificata Ecco Dei racconti Dei Quattro Evangeli Proviamo Allora Capite che Quello che ha sollevato Il professore È uno Dei nudi Più Complicati Come sono nati I Vangeli In cinque minuti Ovviamente Non posso Spiegarlo tutto Allora Vi Dico solo Tre concetti Tre Primo concetto Gesù muore Diciamo Intorno all'anno Trenta Possiamo Ritenere Che non abbia Lasciato Niente Di scritto D'altra parte La cosa Non ci deve Sorprendere La maggioranza Dei suoi ascoltatori Sono Analfabeti Ma soprattutto Ricordatevi Che fino Arrivo a dire A tempi Abbastanza Recenti La oralità Aveva un ruolo Nella trasmissione Del sapere Infinitamente Superiore Rispetto Al ruolo Che ha Nella nostra Cultura È stato stimato Che i poemi Omerici Siano stati Tramandati Oralmente Per secoli E generazioni E generazioni Allora Nel caso Dei racconti Delle parole Delle azioni Di Gesù La tradizione Orale Ha funzionato Per circa Trent'anni E però Ha avuto Una caratteristica Molto Particolare Ogni Entità Ogni Unità Era Autosufficiente Per cui Quando Voi sentite A messa Il racconto Di un miracolo O Il racconto Di una parabola È chiusa In se stessa Quello che sto Per dirvi Guai a voi Se lo interpretate In termini Dispregiativi Ma il parallelo Che devo fare Nella nostra Cultura È con La barzelletta È l'unico Elemento Che a me Viene in mente Di tradizione Orale Nella Nostra Realtà E se ci pensate La barzelletta È trasmessa A livello Orale Quando la scrivete Spesso perde Di sapore La barzelletta Cambia A seconda Di chi La racconta Perché io posso Essere un bravo Narratore Tirarla più In lungo Lasciare In qualche modo La suspense Mentre tu sei Più stringato E soprattutto Se ci pensate Chiusi in se stessa C'è la battuta Finale E la barzelletta È finita Allora Quando gli evangelisti Probabilmente Il primo Marco Ha Dovuto affrontare Un problema Secondo Un'importante Tradizione Forse Autentica Marco Scrive A Roma Intorno All'anno Sessantacinque Cosa è successo È morto Pietro Cominciano A morire I testimoni Diretti In qualche modo È come Se io Sentissi Il bisogno Oggi Di mettere Per iscritto I racconti Di Liliana Segre Che ormai Mi rendo Conte L'ultima Testimone Della Shoah Se non Mettiamo Per iscritto I racconti Dei sopravvissuti Della Shoah Questi si perdono È vero Che io Ho sentito La testimonianza Di Liliana Segre O di altri Dalla loro Stessa bocca Ed è vero Però Che io Posso essere Un narratore Più triste O migliore A volte A volte Anche Aggiungerci Qualcosa Se ci pensate Allora Si sente Il bisogno Di dire Mettiamolo Per iscritto Problema Quando Io devo Scrivere Questo Testo Ho A disposizione Una serie Di perline È come Se io Dovessi Costruire Una Collana Marco Decide Di costruire La sua collana In un modo Matteo E Luca Hanno Le stesse Perline In verità Ne hanno anche Di più Perché hanno anche Alte tradizioni Ma Decidono Di costruire Delle collane Con criteri Differenti Io posso Decidere Di prendere Tutte le perline Rosse Poi tutte le perline Blu Poi tutte le perline Verdi Tu invece Puoi decidere Di prendere Tutte le perline Grandi Quindi avrò Dieci perline Grandi Di diverso Colore Altre dieci Perline Blu Di diverso Grandezza O di diverso Colore A seconda Di come Io In base Al mio Gusto estetico Qui in base Alla mia Teologia Costruisco Il racconto Tanto Sono tutti Elementi Autosufficienti Decidiamo Di mettere Giù I racconti Di Pierino Allora Tu decidi Di mettere Giù Tutti I racconti Che hanno Per protagonista Pierino Bambino Poi Pierino Che so io Carabiniere Poi Pierino A scuola Ci siamo Allora È un Criterio E il mio libro Su Pierino Però Sarà diverso Dal tuo Perché tu Se hai forse Scelto Un altro Criterio Tu ad esempio Perdonate l'esempio Cretino E perdonatemi Non mi viene in mente Uno Tu hai deciso Di mettere insieme Tutte le barzellette Sconce Tutte le barzellette Che sono Volgari Che sia Pierino Piccolo Adulto Militare O altro È Un libro Diverso Il Vangelo Di Matteo È un Vangelo Per blocchi Tematici Tutte le parabole Insieme Tutti i miracoli Insieme Cioè È un Vangelo Per blocchi Tematici Il Vangelo Di Marco È un Vangelo Che invece Preferisce Organizzare La materia In modo Differente Capite che Questo È un primo Diciamo Un primo Accorgimento Che mi Permette Come Lettore Di Capire Qual è L'intento E l'obiettivo Dell'Evangelista Qui Dovediamo fare Uno piccolo Sforzo Come lettori Proprio Come se Leggessimo Una Qualsiasi Opera Perché Un conto È leggere Addio Monti Un conto È leggere L'episodio Della peste Un conto È leggere Tutto il romanzo Se Leggo Tutto il romanzo Dove Manzoni Ha messo Addio Monti O La madre Di Cecilia È importante Non è più Non sono più colpito Dalla singola Poeticità Delle parole Di Lucia O dall'episodio Della mamma Che depone Cecilia Sul Caro dei Monatti Sarò Colpito Da come Manzoni Costruisce Il suo Progetto Letterario Preso Nel suo Complesso Capite che Noi siamo Più che altro Abituati È inevitabile A leggere I Vangeli Con finalità Liturgica Cioè Pezzettino Per pezzettino A messa O in altre Circostanze E quindi Recuperiamo La dimensione Originaria Dei racconti Che parlano Di Gesù Ma a volte Ci dimentichiamo Del come L'Evangelista Ha costruito Il suo Lavoro In secondo luogo Dobbiamo ricordare Che quando gli evangelisti Scrivono Hanno Dei particolari Problemi E quindi Sul Materiale Che hanno A disposizione A volte Intervengono In modo Pesante Abbiamo Già fatto E mi scuso Ma è talmente Chiaro Sul piano Didattico L'esempio Che sto Per farvi Che mi Permetto Di riprenderlo Sapete Che uno Degli Racconti Più Interessanti Del Vangeli È quello Del primo Dei comandamenti Attenzione Come viene Presentato In Marco Siamo Intorno All'anno Sessantacinque Prima Della Spaccatura Netta Tra Ebrei E cristiani Ebrei E cristiani Dialogano Ancora Allora Si accostò A loro Uno degli Scrivi E gli Domandò Qual è Il primo Di tutti I comandamenti E Gesù Rispose Il Signore Dio Tuo Amerai Il Signore Dio Tuo Con tutte Le tue Forze Secondo Amerai Il prossimo Tuo Come Te Stesso Allora Lo scriva Gli disse Bravo Maestro Secondo Verità Egli è Unico Non vi Altro All'infuori Di Lui E il Secondo Comandamento Amare Il prossimo Come Se Stesso Val più Di tutti Gli Olocausti E Gesù Vedendo Che aveva Risposto Saggiamente Gli Disse Non sei Lontano Dal Regno Di Dio Passano 15 20 Anni Passano 20 Anni Matteo Ha lo stesso Brano Per le mani Ha lo stesso Testo Ha la stessa Tradizione Che forse ha trovato In Marco Che forse ha ricevuto Per conto suo Ma il contesto È completamente Cambiato Allora I farisei Il contesto È cambiato Perché Ebrei e cristiani Ormai non vanno più D'accordo Sono in rotta Di collisione Assoluta Allora I farisei Udito Che aveva chiuso La bocca I sadducei Si riunirono E uno di loro Un dottore Della legge Lo interrogò Per metterlo Alla prova E questo Per metterlo Alla prova In Marco Non c'è In Marco È uno Che si avvicina E da pari A pari Discute E chiacchiera Questo è già Un'intenzione Malepola La richiesta La richiesta È uguale La risposta È uguale Da questi due comandamenti Dipende tutta la legge E i profeti Risponde Gesù Stop Il resto Matteo lo taglia E non gli è più Così simpatico Che il suo maestro Stringa la mano A un avversario Capite la grandezza Della chiesa La grandezza Della chiesa È che non ha mai detto Questo vangelo Vale più di quello là Sono prospettive Complementari La bellezza Dei quattro vangeli Che sono E restano quattro E sono come quattro luci Che da punti di vista Diverse Mettono In evidenza Aspetti diversi Del messaggio cristiano O della figura di Gesù Ma vedete Come L'uomo Autore Scrittore Matteo Fa un'operazione Estremamente Pesante Su un testo Che gli è stato Passato Dalla tradizione Ecco il discorso Che faceva il professore Dovete tenere presente A Come sono nati I vangeli Per cui Dovete stare attenti Che a volte I testi evangelici Non coincidono Non collimano Perché Marco ha costruito Il suo evangelio In un modo Luca in un altro Oppure Di volta in volta L'evangelista Vuole mettere a fuoco Un aspetto Invece di un altro Esempio banalissimo Le beatitudini Le beatitudini Le beatitudini E più in generale Il grande discorso di Gesù Grande discorso di Gesù Che il nostro Matteo Ha una preoccupazione assoluta Vuole presentare Vuole presentare Gesù Che lancia Solennemente La nuova Legge Gesù è il nuovo Mosè Che proclama Solennemente Dal monte La nuova Legge La nuova Insegnamento morale Per i cristiani Bene Marco No scusate Luca Incomincia Il brano Delle beatitudini In questo modo Disceso Con loro Si fermò In un luogo Pianeggiante Beati Poveri E cavoli Matteo ce l'ha messo Nella montagna Il discorso Della montagna Che Dio lo benedica Capite che allora Chiavo Che in questo caso Non ho davanti a me Un dato storico Non ho un'indicazione Storica Devo stare attenti Di rizzare le antenne Qual è il messaggio Che mi vuole lanciare L'evangelista Matteo Per Luca Evidentemente Questo non è Intortante Per Luca È interessante Solo presentare Che c'è un bel luogo Comodo In cui c'è tanta gente Che ascolta Per Matteo È Gesù Nuovo Mosè Che ci lancia La nuova Legge E quindi Quello è il discorso Del monte Capite che allora Ogni volta che mi avvicino ad un testo Devo avere le antenne dritte Essere non un ingenuo Ma al contrario Un attentissimo Interprete dei segnali Che l'evangelista ha disseminato E che mi aiuta a capire Altro esempio E poi concludo L'altro esempio Allora c'è un altro episodio Che secondo me È storico Al 99,9 periodico Ed è L'azione Che Gesù compie All'interno Del piazzale Del spazio Antistante Il tempio Probabilmente Un gesto Provocatorio Probabilmente È il gesto Che ha provocato La rabbia Dei sacerdoti Che poi L'hanno fatto Arrestare È un evento Importantissimo Su questo Tutti gli evangelisti Sono d'accordo Ma proprio Per questo motivo Attenzione Marco Ce lo presenta Alla fine Del Vangelo A Gerusalemme Ed è In Marco Secondo me Affidabile Come l'evento Che provoca La rabbia Dei sacerdoti Che il giorno dopo Lo arrestano Giovanni Quarto evangelista Proprio a segnalarti Attento lettore Questa è una cosa Potentissima Straordinaria Gesù Che polemizza Con il tempio È la cosa più importante Te la mette Come primo episodio Del Vangelo Al capitolo 2 Allora È ovvio Che in questo caso Giovanni Non ci vuole Dare un'indicazione Cronologica Ci vuole Lanciare Un segnale Potente Per indicare Attento lettore Che Gesù È il nuovo tempio Distruggete Questo corpo Questo tempio E In tre giorni Rinascerà Ovviamente Sta a indicare Che La presenza Il punto d'incontro Tra Dio Che è l'uomo Che è il ruolo Del tempio Non è più Un edificio Di pietra È lui E per Giovanni Questo è il messaggio Centrale Tant'è vero Che subito dopo Se ci pensate Abbiamo l'episodio Della Samaritana La Samaritana Che dice Dove dobbiamo Adorare Dio Perché noi Samaritani Diciamo su questo monte Il Garizim I giudei Dicono a Gerusalemme E Gesù Di Giovanni Risponde Né qua Né là In spirito È verità Perché tanto Ormai Due capitoli Prima Il tempio È già stato Squalificato Dichiarato Inutile Capite Che in Giovanni Allora Abbiamo un messaggio Potentissimo Che l'io Lettore Devo Avere le antenne Sufficientemente Dritte Per coglierne Il messaggio Se mi limito A pensare Ma quando è stato Qua o là E chi ha ragione Forse l'ha fatto Due volte Questo gesto Sarebbe il modo Più ingenuo Di avvicinarsi Al Vangelo Perché In un caso In Marco È un'indicazione Cronologica Anche teologica Certo Ma Collocata Secondo me Nel punto giusto Perché spiega La rabbia Dei sacerdoti Giovanni Lo prende Lo sbatte All'inizio Proprio perché È un'ouverture Potentissima Sparata a tutto volume Guarda che qui Hai davanti a te Il gesto Che è un manifesto Di chi è Gesù Il nuovo Tempio Il nuovo punto D'incontro Tra Dio E la Terra Vedete come sono nati I Vangeli Sono nati All'insegna Di tutti Questi Accorgimenti Che sono Da un lato Letterari Dall'altro lato Sono altrettanti Gesti E significati Di tipo Teologico Sulla questione Delle ossa E così via Ci metteremo Fino a mezzanotte Un quarto Ma devo andare a casa Ok Ringraziamo Semplicemente Ci diamo l'appuntamento Per l'anno prossimo Perché deve spiegare L'anno prossimo Perché deve spiegare La faccenda La questione Delle ossa Va bene D'accordo Grazie Buon viaggio E a Prossimamente L'anno prossimo Buonanotte A tutti Grazie Grazie